Abbiamo incendiato un deposito dei ribelli! Esploratori operativi è di vedetta! Bruciamo un deposito di fornimenti dei ribelli! Il primo incendio ha preso! Appicca il secondo! Bruciamo il secondo deposito! C'è un rogo, gente! Raggiungete la radio e aspettate un segnale! Segnale captato! Riduciamo incendere questo Lettamaio! Ci impossessiamo della radio! Conquistiamo la radio! Prendiamo la radio! Benzina in arrivo! Bel lavoro! Ti abbiamo spaccato il culo! È ora! Macarena! Macarena! È macarena! È macarena! È macarena! Cosa! 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 Cosa!